Quella della Ferriera è una partita ancora aperta. Si vuole chiudere la pratica garantendo i diritti di tutti. Ma quello che ha scatenato la discussione stamane a Sveglia Trieste tra il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, e l'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scocimarro, è la mancata presenza dell'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini, per l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico di ieri. Tanto parecchie polemiche la mancanza di Bini e quelli all'incontro. Ma è una polemica inutile senza senso esterile, perché ieri era un tavolo per i dirigenti, punto. Quindi non c'era nessun membro politico o comunque di vertice, non c'era Zeno D'Agostino, non c'era il sindaco di Piazza, non c'era il ministro Patuanelli, non c'era il presidente Federica, non c'era nessuna autorità politica al momento. L'assessore competente, che dovrebbe esserci sempre con i sindaci, senza sindaci, con i dirigenti, senza dirigenti, dovrebbe esserci l'assessore Bini perché è lui il competente. Bini non si è mai occupato, non c'era la dichiarazione di Bini sulla ferriera da quando è diventato l'assessore. Ti mostrerò il foglio, presenze, erano tutti dirigenti. Adesso il tema non è più ambientale, il tema è di sviluppo economico. Bini non è più ambientale, non c'era la dichiarazione di Bini sulla ferriera da quando è diventato l'assessore. Bini non è più ambientale, non c'era la dichiarazione di Bini sulla ferriera,